Friuli, territorialmente è una zona che ha dato molto allo sport nel corso degli anni, però è difficile identificare un luogo che possa essere considerato un luogo di riferimento. Gorizia però in quest'ottica può avere un significato particolare, proprio perché è tipica città di confine e anche nei periodi in cui il confine qui con l'ex Jugoslavia era abbastanza chiuso, però i rapporti anche sportivi sono sempre rimasti abbastanza vivi tra le popolazioni. Gorizia in modo particolare poi è una specie di culla del basket italiano, è una grandissima storia che si è venuta un po' inaridendo. I territori circostanti invece sono caratterizzati da qualche loro peculiarità, la provincia di Gorizia per esempio ha dato sempre in passato molti calciatori, la zona di Monfalcone è una scuola velica di importanza nazionale. Gradisca per esempio ha dato anche lei molto nel basket, Ronchi dei legionari è stata una delle prime squadre di baseball italiane, baseball portato qui dagli americani dopo la seconda guerra mondiale, quindi è un panorama molto variegato, ma Gorizia costituisce una peculiarità proprio perché è tipica città di confine. È morto pochi anni fa, un amico di mio papà era quasi centenario, io lo andavo a trovare, abitava a Medana che è un paese dell'attuale Slovenia, subito al di là del confine e io andavo a trovarlo quando tornavo da queste parti da Milano, lui parlando un po' in italiano, un po' in sloveno, un po' in friulano mi diceva, vedi io sono nato in questa città, in questa casa, non mi sono mai spostato da qua tranne per qualche piccolo periodo che mi hanno mandato a fare il militare e via dicendo, morirò qua e sono nato che ero suddito austriaco, poi sono diventato suddito italiano, poi suddito jugoslavo, poi sloveno, adesso mi hanno detto che sono europeo ma che vado in Mona, tipica espressione locale tutti, per dire come è una terra, però si risente questo passato tradizionale, per esempio anche nella cucina, perché è una cucina che risente dell'influenza ovviamente latina-italiana, slava e tedesca, è molto interessante, anche senza voler fare delle disquisizioni di carattere antropologico, è inevitabile che proprio per la storia così frammentata di queste terre c'è stato un incrocio di razze e si sa che quando le etnie si incrociano ne deriva un rafforzamento anche fisico e difatti da queste parti, non a caso questa è la ragione che ha la statura più alta d'Italia e quindi anche in ambito sportivo con una grande tradizione che si legava anche all'attenzione del mondo dell'impero asburgico per lo sport, ha dato dei buoni risultati. Ultimamente si sono inaridite un pochino quelle che erano le fonti dei grandi giocatori di calcio, della stessa pallacanestro che nascevano qui, però si è molto allargata la pratica sportiva tra i giovani verso altre discipline, non a caso quando ci sono le Olimpiadi si fa il rapporto tra il numero di abitanti di una regione e atleti che rappresentano l'Italia le Olimpiadi e sistematicamente queste zone, il Friuli Venezia Giulia, sono quelle che danno il maggiore contributo. C'è sì una tensione, ma forse non del tutto condivisa, però c'è tanta gente che fa sport a livello individuale, correndo, andando in giro in bicicletta, per esempio la bicicletta è diffusissima qua, non tanto però come mezzo per fare sport, quanto come mezzo di locomozione, vero e proprio, però c'è una certa attenzione. Una volta era molto diffuso per esempio il gioco delle bocce, molti giovani adesso giocano per esempio a tennis, è abbastanza, mentre stentano ad andare avanti le manifestazioni di sport organizzato, tipo le scuole calcio, questi ragazzini qua, non è che funzioni molto bene, cominciano ma dopo un po' smettono, evidentemente perché non si divertono, forse anche perché i criteri di didattica sportiva sono tali che non fanno divertire i ragazzini, li trattano quando sono giovani come se fossero già dei professionisti, invece quando si comincia a fare sport che nasce sempre dal gioco ci deve essere il fondamentale momento del divertimento. I giovani è ovvio che hanno un approccio verso la convivenza civile, le abitudini, gli usi e i costumi che sono diverse, le generazioni anziane invece qui nel Goriziano in modo particolare manifestano una certa nostalgia per il passato imperiale, Gorizia era chiamata la Nizza dell'Impero perché venivano qui i nobili da Budapest, da Vienna a svernare perché il clima era più unito rispetto a quello di Budapest e Vienna, non certo rispetto a quello di Capri e Collo, per cui è cambiata un pochino la prospettiva. Gorizia ha un pochino questa tendenza ad addormentarsi un po' vivendo sugli allori del passato, tra l'altro adesso deve subire la concorrenza, chiamiamola così, di Nova Gorizia che è la Gorizia al di là del confine, a qualche metro da qua che è una città invece molto più viva, molto più attiva e i goriziani qualche volta danno la sensazione di essere un pochino troppo addormentati sugli allori del passato e questo si riflette anche in ambito sportivo.